Ok, allora, partiamo e fanculo, dai, dell'host dove sei? Aspetta! Perché non mi aspettate? Merdone! Perché ste merde qui sono partite da dieci minuti, merda! Tu vuoi so partire da dieci minuti? Eh sì, non rotto se dieci minuti, è stato col microfono spento e lui andava. Sento io sono morto di tutte! Ho fatto 30 secondi di partita, sono morto presto di secche e sono qua ad aspettarci di nuovo. Ma anch'io sono morto, sto continuando a morire tanto, cosa vorrete? Se siete delle brucia forse... Ma sì! C'è un quarto d'ora che aspettiamo! Ahahahahahah! Ho trovato Scorpio! Se riesco a superare il primo piano, mi fermo e vi aspetto! All'altro, non ti era a morire nel primo! Io ho trovato Scorpio come primo oggetto, non è male! Ok! Si, ha partiti tutti! No! No! Ora! Ora, via! Per chiunque sia qua! Tecnologie 2! Ciao! Benvenuti su The Lost Run di Sto Sì! Con quale voglia! Potete vedere le live su tutti i canali delle persone Eevee contenute! Porco di un porco! Nell'indie bang! Tranne io! No, nel mio no! Tranne quello di questo! Tu no! È un suicidio mediatico registrare Isaac! Per me lo sapete! Eh? Io dire di ridoppiare quattro ore di Isaac scusatemi ma non ne ho voglia! Cioè... Dovrei ridoppiarlo io! Oppure il mio audio è questo! No! Perché il mio audio è questo! È il mondo! Ho capito! Ma tanto lo soffriamo noi! Certo! Soffriamo tantissimo noi! No! Io mi rifiuto di caricare un video così! Sì! Ma sì! Tanto cos'hai? Hai una credibilità! C'hai fatto! Ma gioca! Gioca! Quanto meno tecnica! Sì! Ma ascolta! Gioca qualcos'altro allora! No! Per far soffrire le nostre orecchie! Perché? Perché gli scritti vuoi bene e a noi ci odi! Scusami! Non ti sei lamentato in un super show che sia uno! Oggi devi rompermi il cazzo per il microfono! Ma perché oggi sto registrando anch'io! Eh vabbè! Vedi! Perché c'è sempre un secondo fine nel suo caso! No no! Ma nel mio caso cioè! Io ho sentito la qualità oggi sul tuo registro dato che! Stiamo usando Skype! Mi ricordo io! Non Skype ho questo! Non lo so! Questa gente che scia in sottofondo! Non ho capito bene cosa sia! Sì! Sei alivigno! E gente che scia! Sono morto di nuovo! Porco! 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 Sappi che non ti è permesso eh! Te lo dico! No ma! Mi sto trattenendo molto forte! Ma io non vado neanche in Rage con The Lost! Tanto cioè! Shull! Dipende! Ok! Quando arrivi probabilmente a mamma e muori ok! Mamma no! Basta che arrivi al quarto piano e muori! Ti cazzo! Sì! Dalla quinta volta che muoio la prima stanza! Se una volta riuscissi a non partire col cellar sarei felice ad esempio! Sì anch'io! Non penso che sia fatto più! Non penso che sia fatto più! E maledizione! L'hai sbloccato adesso Mac! Ma l'ho sbloccato da 25 puntate tipo! Ma avete rotto le palle! Basta! Col cellar! Maledetti! Porco! Nooo! Tutto bene! Tutto bene! Tutto bene! Tutto bene! Io sto per andare al primo boss! Anche io ho resistito! Io sto morendo fortissimo a ripetizione! Io ho trovato spider event! Yeah! Sì! C'è uno youtuber che seguo che è bellissimo! Perché ogni volta che trovo uno di tutti e cinque nella prima stanza del tesoro! Cioè Dio un se lo aspetta come boss! Ho trovato pin! Ogni volta che trovo quasi decente! E muore se si può! Io continuo a provarci con le Curse Room! Morto! Ah beh! Proverà la Curse Room finchè non ti giocerà con Nine Cat! Esatto! Con Ace! Che praticamente ci ha provato tipo 7! Ha fatto 12 roba! Se c'ho la Curse Room al primo piano che sbuca lì ci provo! È la tattica più cheap che possa esistere nel mondo! Però va bene! Eh ma è l'unica! È anche forse una delle poche tra l'altro! Se non quasi l'unica! C'è gente che lo riesce a fare tranquillamente senza! Sì! Northern Line l'ha fatto alla prima senza! Ah beh! Cosa? Non è vero! Argon l'ha fatto perché tipo è real! Quindi... Argon è tutto! Argon è tutto! E' real che è Eternal God! Sì sì sì! Argon è tutto! Argon is love! Argon is life! 100% su Revert e 100% Eternal mod compresa su Wrath of the Lamb! E' uno e trino Argon! E' uno e trino Argon! E' uno e trino! Ma porca! Ma perché Argon si applica in quello che fa! Oh! L'e-launt! L'e-launt! Non è male! Ho provato Dio ragazzi! Ah! Dio! L'ho capito! Ci ho messo un quarto d'ora! Ma l'ho capito! Perché è una battuta che ho fatto 10 da volta! Cos'è che io? Non l'ho capito quando l'hai fatta a te! Perché? No aspetta! E' tristezza! No! Com'è la battuta? E' il dado da 10! Ah sì! La fai spesso come battuta? Sì! Ah! Però ho detto! Ho detto! E' la volta che lo farà qualcuno! Porco Giuda sono morto! E' la volta che lo farà qualcuno! No! No ma perché seriamente! Io la prima volta che l'ho raccolto! Ho detto! Dio! Eh! Poi lo guardo bene! Dico! Ma è un D10! Oh! Cosa è il roll al D10? Già che noi ricordo! E' la cosa più inutile della storia universale! Dimici! Con deloste forze! No! Perché devi avere culo! Tanto culo! Perché a volte ti spawnano della roll! Dei crisi! Esatto! E se tipo... Trovi the bloat quando hai tipo la... La run della madonna! Stesso niente! Mori! Speri di non trovare! E' culo! Siete lì! Ma quanto siete lì? Come mai non si arriva la live? Oh cavolo! Non mi dite che non ho messo! Oh! Gurglings! A posto! E viene bloccata ragazzi! Scusate! Che succede? Secondo me... E' un Windows 10! Se devo proprio dir la mia! Si parla è quello che funziona! I problemi del mondo! Oddio sai chi si è schiantato Isaac! Oddio! Anche a me! E' la maledizione! E' la maledizione! Westfall! E' la maledizione di Westfall! E' la maledizione di Westfall! E' la maledizione! 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 Non funziona! Saranno... Saranno 50 puntate che non escegliere di inserire! Sono deloste di uscire! Un bel monstro! Ok ora va! Quindi chiunque lo veda saluti! Cosa fa Just For Crediters? Ti compri a gratis qualcosa dallo shop! E' fare una volta sola come Trinkert? Si! E credo funzioni anche con Satana! Porca Eva! Ma tanto non serve un cazzo perché è vero! Esatto! Quindi per il suo amico poi fama! Oh! 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 Quando aggiorneranno Isaac, Veloz partirà con me! Smart fly! Utilissimo! Eh appunto! Comunque ragazzi si vede anche la mia live! Non so come mai non si vedeva prima ma ora va! Finalmente! Super glattoni! Ciao! Tanto non vi siete persi niente! Tu che non mi puoi dare nulla! Ah ma hai dato lardo! Oh! Ma che carino che sei! E sono più lento se lo prendi! Che simpaticone eh! Però mi ha lasciato una pillola che ho preso da uno speed down! Grazie! Ah! Quindi puoi fare... Quindi dovevo... Dovevo essere lento per forza! Non ho raccolto eh... Magic! Magic pick! Magic... Ah ha trovato Magic Mushroom! Ah! Io trovo... Io trovo lento! Oh ragazzi! Mi sa che io... Vi saluto! Perfetto! Ciao! È stato un piacere West! Grazie per averci bloccato tutti gli eyes! A pasticciarvi con The Lost! Tranquillità! Non so perché ma suona malissimo come se facessimo delle sozzeria The Lost! Può essere! Sì! Più o meno eh! Dopo tutte le besteme che li tiriamo dietro! È il minimo! Dopo tutti i tua madre puttana che li tiriamo! Ciao West! Ciao West! Ciao West! Al prossimo! Ti vogliamo bene! Anche io un po'! Adesso ti spariamo dietro appena ti stacchi! Beh ovvio! Ti muovi a staccare! È vero quella merda! Ah ma no! È già ancora dentro! È però dentro! Ah ciao West! Ciao! Ciao! Troppo un coriglione! Duco Flys campione! Ma che bello! Io ho trovato! Por... No! Ma no! Ma no! Io non regio con Duco Fly! No no! Io con The Lost non regio! Ma sicurati! Non mi arrabbi mai con The Lost! Il suo piano! Io ho detto non regio semmo gli primi due! O al primo! Al terzo sì! Più che altro se trovi oggetti buoni! Eh eh! Ma basta Spider Baby! Che palle! Oggi ho preso Dark Boy tra l'altro! Sì! Oh! Aumento di vita dal boss! Grazie caro! Sono morto! Dark Boy vuol dire che hai fatto lo shale senza prendere danni? Dark Boy è mamma! Anche la Dark Room ho fatto! Io ho fatto la Dark Room! Non so se ho fatto anche shale! Ma Dark Boy è mamma! No! Me l'ha sbloccato quando ho fatto la... Quello è Dead Boy! Dead Boy allora scusatemi! Sono... Mortificato! No! Ma qualcuno di voi ha mai sbloccato qualcosa con The Lost? No! Non ho mai fatto! Non ho mai fatto un'arrancione con The Lost! Io ho un po' nel mio salvataggio privato un po' Però non esiste non faccio... Non faccio le tattiche tipo... Io ho un po' sulla vita! No! Oh! Dead Sea Scroll! Grande! Io adesso... Forse il Dottor Feta sarei l'uomo più felice del mondo perché ho trovato Bob Curve e Bobby Bomb! Perfetto! Le mie lacrime sono forti come il primo piano però ho delle bombe molto buone che riuscite automaticamente a volerlo! Primo boss dingo! Io ho trovato Firemind! Potrebbe essere il pessimo! Potrebbe essere il pessimo! Il pessimo! Il pessimo! Proprio il peggiore oggetto possibile! C'è il mio vicino che sta sentendo... Guarda un soft tank! E lo sta sentendo... Cos'è che trovi il peggio oggetto? Eh... Firemind! Perché? Il secondo è Bob's Brain! Perché? Non scopere tra poco! Ah è vero che uno esplode ogni tanto! Merda! Mi esplode ad hoc o mi esplode proprio in faccia? No! Esplode quando vuole trollarti per bene! Nel senso nel momento in cui proprio potrebbe farti del male lo fa! Segue la legge di Marci come principio! Ah! Però se... Ah però... Cioè... Ok ho appena visto come esplode non è che proprio mi esplode in faccia! Che era Spare che esplode! Nooo! Se fosse colpa vuoto! Nooo! Nooo! Esplode il mostro! Cioè il mio vicino di casa che sta probabilmente guardando se... Penso che sia Jurassic Park! Ma lo sta sentendo tipo a non so... 987 miliardi decibel! Praticamente lo sento come lo stessi guardando qua! Pa 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 pa! Ed è tipo... Morto! Sono un attimo... Io pensavo la musica di John Williams così... AZZEEEEEEE! T-rex! 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 Oppure... Oppure per chi segue il nostalgia critica... I'm the motherfucker T-rex! Cosa sta succedendo? Si è bloccato tutto! Oddio! A me funziona bene Isaac oggi! A me ci ha schiumato un attimo! Proprio si è bloccato! Mai capitato nella vita oggi! T-rex! 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 Ho preso Ders'Option per l'altro! Sono le bestemmie volanti! Eh si! Si! Perché non ti prendi... Sempre lo Yamart! Si... non ti prendi nel tap! AHAHAHA! O Yamart! ci sta trollando secondo te lo Yamaha anche a me è uscito io non ho ancora trovato un oggetto che sia vagamente utile la revenge fly come la metti si fa oh il manuele dei mostri grazie a me è uscito quelle tipo 40 volte ma è scriptato con the lost non credo però l'opzione è hp up o speed up io non ho mai trovato invita mia al manore dei mostri oggi c'ho fatto solo oggi che sto usando the lost perchè? perchè un povera di merda counter from below semplice perchè un povera di merda ah no non serve un cazzo neanche lì è vero come? counter from below? beh ci prendo ci prendo gli oggetti non è male si si un po' di bombe un po' di chiave non ragoppia anche le casse perchè sono andato da envy sono un cretino è un po' si se un po' di un po' envy sapevo anche che c'era perchè ho la bussola eh dieci bombe ma tipo ma da voi alle grazie dieci bombe voi alle medie o alice perchè non avevate mai avuto nella nostra vita quel periodo in cui si usava come insulto oh sei un cappato siiii mai sentito mamma mia i gravi proprio io erano quelli momenti un cappato per dire se un handicap se un cappato mai sentito nella vita io erano i momenti in cui veramente guardavo la gente e dicevo ma muori essere inutile ero in alcune classi di fatte di malviventi ma sta roba non l'ho mai sentita no quello non era da malviventi era da l'altro era assolutamente catti da gran parte sono finiti in ospedale e quindi sono finiti in ospedale oh ciao freck sono le soddisfazioni quando raccati tipo il tizio che ti pestava le medie uglia a domando alle 4 di pomeriggio in un angolino e caso strano la siringa gli fa venire un embolo ma no e dici ma io non lo so se ti salvo ma qualcuno mi obbliga che stronzo che vuol dire cpr non mi ricordo bene un attimo cibo per ragazze non mi ricordo cibo per ragazze cpr sono morto 3 volte in 25 secondi per dire per dire è un po' precoce me ecco oggi e beh porca Eva qui la cosa che ti prende anche per il culo è che parti con una moneta o mi sbaglio non ho ci ho fatto cadere mi sono so conto adesso parti con una moneta ma sapete perché secondo me parti con una moneta? posso dire che sta perché tipo il rituale i classici rituali della morte che li mettono la monettina e mettevano la monettina in mano per dare il pagaggio per il pagaggio a caronte in bocca amici come si fa in the lost a togliersi un a toglieri no col joypad a togliere l'oggettave uso il control dalla tastiera in effetti magic mushroom ridendo e scherzando ma no ma io a me continuo a trovarlo ma che brutta stanza vabbè toccato ma perché non mi fa posare la pillola che ho addosso con control? hell tap tenei premuto per un po' perché tenei premuto per un po' eh ma non va lo sto tenendo premuto ma lo so come si fa sì ma devi tenerlo premuto tipo 5 secondi oh garglings grazie 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 ti ringrazio garglings oh un puro tomale troppo oh de pact gapi, scholar e brimstone ah questo è oh prendi tutto tutto eh sì però ho un range down lì vabbè lo uso range down tanto brimstone ma che culo di merda ma perché devi prenderlo? ma lascia perdere non ho usato già io continuo a trovare come primo boss sempre solo garglings che culo solo loro che è facile tra l'altro all'inizio sì sì con le lacrime ovviamente non ho ancora trovato un potenziamento per le lacrime oh fu l'elfe grazie l'elfe ci sta trollando duro dottor feto ho trovato dottor feto oh come l'avevi guarda se trovi ipecac sei sei mandato sei perfetto perché ipecac non ti fa subire il ipecac no no non ipcac si no se ci pensi è bomb lover che non so prendere Robinson è bomb lover che vuolаз far prendere le danze vai da me vai da me vai da me una stanza piena di mosche bene se hai ipecac insieme a dottor fetus le bombe non ti fanno danno se ti esplodono in faccia Le bombe delle 6 non fanno male Sì, l'avevamo Esatto, l'avevamo sperimentato in una live L'avevamo sperimentato in una live Ma per non perdere danno Non ti serve quello Pygomaniac Esatto No, in quel caso lì Se metti anche i peccacca l'altra volta Non andavano, non subivamo danni Grazie per kamikaze Sì, sai che ha detto Norodu sulle bombe delle 6 Non fanno male Io ho cercato di passare Vi rendete conto che per uccidere I pezzettini di blastocisti Quindi piccoli, piccoli, piccoli Mi fermano due bombe Oh, unicorn stamp Grazie Ottima idea anche quella Grazie Porco Ma sono veramente così scarsa Mi sono andato il capicolo Da quando in qua è così scarsa Da un bel po' Ma non 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 ti ho no Sono morto di nuovo Non fa caccare Porco Ragazzi mi ha salvato Il gap is collar E questo qua è puro C'è una merda Mi ha fatto riscolare Adesso il Dr. Fittus è la merda Io infatti non lo raccolgo Quello trovo non lo raccolgo Cioè le bombe non trovano Cioè le bombe non trovano nulla Nulla Niente 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 Fanno come delle lacrime A me no Da quando è Da Riberto Tutto da Riberto Che hai E' un po' Dottor Fittus è la cacca No Quello dico Ah Crampus è la grazia Mi sembra una moneta La ghibe Se Si Dettro Ho fatto la ghibe Lo sentito E mecca Dottor Fittus è la merda Dottor Fittus è la merda Dottor Fittus è la merda Peccato che sia un eiaculatore precoce Chi ha Isaac Isaacisticamente Isacisticamente Acqua 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 Vediamo se c'è qualcosa nel negozio Nella vita reale sono un coglione Probabilmente ho avuto L'unico sfortunato Nella mia vita su Isaac Perché ho la sensazione Che nel negozio ci sarà Grid Cioè Se ho trovato Crampus col patto Vuol dire che qua c'è Grid Ah no Allora Possiamo Tra l'altro io Nel senso Secondo me è molto peggio Grid di Super Grid Sì Perché Super Grid Oddio The Fallen Ma Super Grid puoi stare Puoi stare dritto Esatto Puoi andare proprio frontale Cioè Ha un po' quella cosa Che rompe il cazzo Che spuola testa di mercante Sì Sì Se è abbastanza potente Tende liberi Con una certa Con lì Brinson per esempio Che è Super Grid Se uno ha Brinson Se non è abbastanza merda Per provare Brinson con Veloz Sì Sì Per dire Per dire eh Facile sta dietro a un muro Oh no Ho battuto The Fallen Stavo andando contro un muro Merda Come sei a The Fallen No Avevo The Fallen Lo batto Solo che continuavo a ritrare Mi ha aperto Stavo a ritro la schiena Entro Krampus Ops Va fatto Ma come cazzo eri arrivato addirittura E ho terzo piano perché avevo XL i primi due Ah Merda Io è la terza volta che trovo un Bobby Bond Un po' ora Grazie Mi cipulisco il tutto Ma non andare sulle Ma non andare sulle cacche piccole La bomba ricercava sulle piccole Anche mi tengo la canta piccola Non so cosa fare Ecco Che mi trolla Stavo leggendo la chat Mi è arrivata una spina Stavi leggendo la chat Stavo leggendo la chat Esiste Narotus Esiste la pillola damage up No Non esiste Però c'è il tears up Che credo sia rate of fire Però Giusto Eh sì No cosa Tears up Tears up O forse anche il danno No 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 Spare più frequentemente Ok Se kamikaze ti capita con Pyromenic Pyromenic Hai vinto o sbaglio Ma non lo so potrebbe essere stato un rs Non l'avevano un rs Sì l'hanno tolto Sì l'hanno tolto Ma non ti fanno danno i nemici Perché No C'era Continua a essere kamikaze C'era la combo della morte Che era Ipecac e Pyromenic E io ho fatto una puntata con Ipecac e Pyromenic Nel quale Credo di aver vinto per la prima volta nella Darkroom Se non erro E tipo due giorni dopo l'hanno tolto Ti sparavi ad otto e riprendevi vita Cosimo V4 ci sta seguendo Ti stivano dal punto di vista professionale Ciao Io ho la sensazione che se vi dico questo ho trovato mi bestemmiate dietro Dica Ho trovato l'occhio che frizza i nemici Theo Brimstone No Miki Thea Pai Romenic e Ipecac insieme Sei invincibile Non più Non lo sai più Non sei più invincibile E non so se kamikaze Non so se kamikaze Porco giù da me Maledetto Morissi Nella vita reale E non so se adesso Non so se adesso anche kamikaze Cosa è stato tolto Non Quello non lo so Ah io ho la sensazione Sì Troppo facile Remote Dissonator Credo abbiano tolto tutte le evenienze di invincibilità suprema del male Assurdo Quindi anche quella Suppongo Sì Credo che non ti Più che altro non ti dia danno Ma non te ne fa guadagnare Fondamentalmente Rimani neutro Lazarus Rugg Sei una puttana di merda Sai Non sapevole va bene Eh sì L'esperimento più bello che noi si potesse fare comunque A me piace tantissimo questa cosa E un po' meno Ho dettato Tra l'altro abbiamo detto Lo dobbiamo studiare Adesso poi ci organizziamo Poi facciamo La facciamo oggi pomeriggio Mi si è detto Ragazzi appena finisco Facciamo Sì ma dio E vai al fanculo È il sit della vita Ma davvero fotti Ti so Però se muori Se muori Se muori Sei perculato Per il resto Della tua esistenza Dove deve arrivare Per non essere perculato Ah Devi finire Devi finire Perché con questa combo qui Devi finire Cioè se non finisci con questa combo qui Ci manca solo Ecco no No ecco no Non deve finire Deve arrivare Se vince Se perde o nonarevolmente Ancora va bene Se prende Anche il Non so Il Alimental Alimental Se prende l'alimental Non puoi perdere Non ti viene permesso Lo sconfitto La tua esistenza Aveva cancellato Dalla storia Il trattamento Chris Benoit Ricordate un certo edo No Oh Cristo Aspettate Ecco no Vabbè dai Se muori da doppio di ont Ancora Ancora possiamo sopportarlo No perché L'ho appena frizzato Mentre è alato Cioè Lo elide con la combo Di power up Che sembra Il seed che è capitato A me oggi con Kane Che paura Lo elide Si però ragà Mi sta sentendo l'ansia forte Perché non ti abbiamo messo pressione No no Io direi che lascio la Gappi Sed O prendo Gappi So Krampus Sed Io direi in questo caso Forse è meglio Krampus Non so perché Perché nel dubbio La sparo E va giù Non lo so Non lo so Dipende da quanto fai male Di danno base Non so quanto Ho Brimstone Con Small Rock Shield of Tears Blood Boat E però Krampus Eh no Merda Sono uscito da patto E ho cancer anche nel dubbio No allora Deve è meglio Krampus E Gappi Sed Allora quel punto lì Si Ma grazie per il breakfast No E per il dessert Grazie A me è andato Rosario Ragazzi Io sono in ansia Io ho trovato il cubo di carne Grazie del cuoricino eterno Il cubo di carne è buono Si si ma solo quelli Si ce l'hai ce l'ho Che cazzo è sta stanza Perché il resto Non vedo il mio nemico Ah è P Ok P va bene Ma dove sei? Sono Necropolis 2 Belli? Se l'ammazzo mamma per me è già un risultato Ho Brimstone 2 Ma scusa avevi già sbloccato Spell'hunkerboy? Bezmunkboy? No non me li sta dando in effetti Perché? O li avevi già sbloccati magari? Guarda che siete sicuri Siete sicuri che con The Lost Perché volete con The Lost Non contavo di sbloccare i boi? Vabbè minchia C'è ma crederebbe C'è che volete da qualche parte Che non contava Eh ma è probabile Ragazzi Da cazzo Mi sapete come gioca Ad Isaac Non posso averli sbloccati Ok? Cioè Tu mi conoscete abbastanza bene No però la stanza piena di spine Per me è un problema Aspettate No Quelli che si muovono Ok Intendo Ma voli scusa Ah ok Eeeh no Sono quelle che ti schiacciano ai lati Sì sì ho capito Ho capito E' un altro power up? Crick e spodi? Oh allora comincio a giocare un po' seriamente Dai Il problema Il problema è che non ci capisci più in carta A un certo punto non ci vedi più nulla Eh un anni E' il primo power up Chiamato power up Che trovo Quindi Che ho trovato Ad entrare nei negozi Perché non vorrei Trovarmi un grading fa No devo passare per forza dalle spine No Vittle Shhh Bucco of Revelation No Non sono riuscito a uscire dal basement 2 Finora Non bene No io una volta ma Perché avevo l'XL Non bellissimo Mostro Ce la posso fare dai Mostro Come carta di Hanged Man Logicamente Perché sennò Ottimo E' perfetta no? Quella giusta Quella che uno dice Oh aspettavo proprio che mi capitasse questa carta C'è un trucco per superare le spine Ditemi che c'è Perché io rischio di morire Se mori contro le spine E' disonore per la vita Rischio di morire nel modo più infame della vita Ragazzi Ti frego Come le evito Ditemi qualcosa Basement boy achieved No ok Si sbloccano i boy Si sbloccano A me non li ha dati Ho appena preso basement boy Forse perché sono offline Oh che bella che bella cosa No amici No se non vierebbe dal gioco Si esatto Sto assaporando Che cazzo devo dire Schiva Sto assaporando il mio posto Non stata la coppire E vado in mezzo Mentre queste si stanno aprendo Ritorna lì indietro Ma dipende dalla mappa Io che ne so Non sto mica guardandoti Sono nella stanza Quella che ha Le due Vabbè La tua mamma è puttana Che cazzo mi la spieghi Cosa ci hanno fatto 650 mappe E come faccio a sapere Non posso bucare Qua allora Magari c'è la mia No No Dark bomb Al primo piano Quando mai mi capita Nella partita normale Con the lost Porca di quella puttana Dark bomb Come patto No no Non come patto Item room Addirittura No Cioè proprio la presa di culo Fatta Si Ce l'ho fatta Oddio Ho chiuso gli occhi E ho tirato dritto Consigliano di farlo eh Di solito la funzione E farò così Di farò così Ho chiuso gli occhi Ottimo Ninja Intanto nel frattempo Allora Vediamo di arrivare al patto Finalmente Che cazzo Io ci sono arrivato C'erano tre casse rosse dentro Grazie Buonissimi Vaffanculo Muori stronzo E dentro c'era Però c'era Gappi Scholar Vabbè dai Gappi Scholar Sono morto la stanza dopo E sono morto Ah vabbè Ah e non ha dato Non t'ha dato Con me non ha mai funzionato Nella vita La Gappi Scholar Non so come Non so qual è il brivido Che si prova a far funzionare La Gappi Scholar Perché non Ci sono delle discherette Non conosco Ha ciso la mamma Ha ciso la mamma Ha ciso la mamma E' andato a ref Ti rendi conto Che il primo che è andato Era Eferto E lui Sì Ma muoio Ma muoio Fai la pola No sicuro Eh ma intanto Eh ma guarda che Devi fare tutto Quando ti capita Sì in effetti Sì perché Intanto devi fare anche La boss Devi fare tuttissimo Proprio No eh ma non mi la frega Potenzialmente Perché se no Sei nard Io Vagà Me la faccio un'altra volta Addio vado a farmi l'accento Muoio Non c'ho neanche oggetti fighi Ma che cazzo dici Beh lì Cioè io darei Darei il culo Per metà Manca Manca olimentol Ma io vado sicuro Sulla cacca di Harley Quinn E muoio È sicuro Di Harley Quinn Harley Quinn No Carion Queen Carion Queen Ma la Elidi La Elidi Prima che possa fare una cacca Allora Oh la Elo Il fagiolo bianco Poi il segno Zodiacale tondo Cos'è già Quello tondo Con sopra le due Antennine Tipo Il Wiggle Worm Ma sì Ma portiamocelo giù Al culo E Toro sarà E poi c'è invece Quello Tennine Taurus Che ti serve Il giusto No non è vero No Taurus Taurus è quello Della Rage No Rage building No Allora no È anche buono Ma porca Troia Sì ma infatti Ma io lo dico Oh grazie per l'elt upgrade De Lost Ti stimo Io ho trovato Il mio primo patto Stai giocando in hard mode Vero Edo Stai giocando in hard mode vero Edo? Maledetto No Come no? Che senso ha non giocare in hard mode The Lost? Cioè con The Lost devi giocare in hard mode Sono un coglione Perché Cioè la Rage che ti va bene La Rage che ti va bene è questa Lo sai Oh una minchia Ogni tanto va fatta Non succederà mai più Scusate Va bene Dovrà andare una bene Per fare Eh l'ho capito Le minchiate le fanno Le ho fatte anche io Una sentite No devo ammettere Che mi sia andata molto di culo Perché finora mi ha funzionato Una volta Il gap is collar Prima di essere forte però Cioè era una merda Mi ha funzionato Allora vediamo Metaurus Guarda sono così pazzo Tanto muoio Nel frattempo Sui Milk Selvatico Guarda frega niente Lo prendo Leo te lo puoi tenere Leo se lo puoi tenere Perché? E' tal Non aumenta la velocità Sbaglio? No Leo Leo Eh sì È quello Che ti fa distruggere le rocce Sì in effetti con The Lost Non è Eccolo qui Speed down Gates speed While in a room With enemies Until game Mai dite l'unico Refet for a few seconds Dai prendo Taurus E ci provo Prendo Taurus E provo la boss rush Morirò Me lo sento Ma secondo voi Se do una facciata A letto con The Lost Che succede? Niente Si ricarica il tuo oggetto Se hai letto pulito Cosa è successo? Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Erin Ma si! Ma che culo di merda! Che culo di merda! E cosa hai trovato di figo nel mercato nero? Steam sale! Ma già l'ho fatto che l'ho trovato! Fa caccare eh! Non è che... Oh! Placenta! Oh! Che carini! Placenta! Ma vai a... Cos'hai trovato? Placenta ho trovato! Bella! Regeneration! L'highlight di questa... di questo cosa segreto è la... E basta! Oh! Book of Belayal! Ma ciao! Book of Belayal! Bello è ottimo! Si si! Ho trovato quello e basta! Ti garantisce il patto! Ti garantisce il patto! Si ho trovato solo quello nel patto con satana! Il plug non ha senso di usarlo, vero? Non ha senso! Prenda! Muori! Per sbaglio magari muori! C'è di più damage! Non ho più metto niente! Eh! Fatti! Che cosa? Forse non è il caso! Lo dici? Ragazzi ho fatto anche mega satana con the lost! Basta solo un po' di coraggio! Comunque GG! No! No! Basta solo un po' di culo! Ma non neanche un po'! Non serve tanto! Ragazzi la mia run, io lo dico, quelli che scrivono GG ed è molto culo eh! Cioè io adesso ho trovato... Avere Brimstone con Slow Effect sono praticamente il dio! Perchè blocco i nemici, gli butto l'altra Brimstone ad e ho vinto! La Carrion Queen quante cacche hai riuscito a spawnare? La Carrion Queen... una! Credo! Ne ho una tipo... Ma io sono... Porco! 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 Però mi ha ancora buildato la rabbia! Eh! Porco! Che blot! Una volta! Va lì sopra! Sopra! No no no! Si infatti sono andato sotto! È già morto! È già morto! Cioè ha detto... Oh the blot! È già morto! Però non mi... Non mi stai... Beccia the lost! No! Oh dettissima! Vinco con the lost, con sui milk, io non so cosa... Non è possibile! Cioè sui milk è l'oggetto della merda, l'odio! Vinta! 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 C'hai visto? No! Sono sulla cacca! Merda! Che puoi scorrere! Seeeeeee! Ma no! Eh vabbè! Che sei un butto di culo rotto! Sì! Ma per... No no no! Non morire adesso! Più di una volta gli sei attivato, tra l'altro! Tu... Questo o questo? E le... Praticamente sono tutte le live che mi sfottete che mi stanno dicendo in faccia, succhiatemi le palle! Cosa? Sono tutte le volte che... Ah ma tanto edux muore per primo! Ma tanto edux muore per... Fa un culo! Ma questo è culo di merda! Non è abilità! Degli oggetti del... 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 del cristo redentore! Cioè nel senso... Cioè io sono famoso per avere la sfiga del porco! Io vi... quando... quando giocavamo tutti insieme io vinco perché ha molto sfido! E' semplice! Io... Solo per quello! La pillola che mi dà! Fammi ragionare! Tears Upgrade! Ah vabbè! Poteva andare peggio! Eeeh... Questa ricarica del... Adesso noi magari non lo sappiamo ma... E non lo sta vincendo niente! Si immaginate! Sanchi ho preso amnesia con Jackers... Darkness... In nome d'un cazzo! Ma uccisune train of fly su una cacca! Ma chi l'ha vista? Pfff! Pfff! Io come power up ho trovato il... Il ball of chain di Sansone! Grazie! Mi hanno ucciso! Sei morto? Eh si! Sono entrati in una stanza... Sai la stanza del wombo con i cosi che camminano sul muro e fanno il raggio? Si! No... Quelle non... Sono entrato nella stanza... Sono... Sono entrato nella stanza peccato che fosse spawnato il coso coraggio dietro di me e mi ha toccato appena entrato! Cioè sono entrato... Sono entrato e mi ha toccato! Cos'è che stavi dicendo tipo due secondi fa? Ma tipo due! Vabbè intanto io sono arrivato al wombo! Tipo due! Io sono arrivato al wombo! Io sono arrivato al wombo! Sono arrivato al wombo! Oh dark boy! Ehm... Battendo la mamma! In realtà il battendo la mamma è dato dark boy! E basta! No! Mamma's boy! Che devi vedere la mamma! Dark boy! Ah no! Battendo la mamma è dark! Scusa hai ragione! Allora... Come boy! Vi dico che boy ho io! Io ho... No! 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 Vedete! Io ho solo basement boy e dark boy! Non ce l'ho quello di battere iiii... Iiii... Cioè non hai spelunker boy? Ra! Sei sicuro di aver rotto il belosto? Sì! Per dire perché... Non mi ha dato spelunker... Non mi ha dato spelunker boy! Ah! Perché sei morto! Ecco! No! Non me l'ha dato nelle cave! Eh! Cioè durante... Sei morto! Sei morto! No! Sei morto nel uomo! Ah! È vero! Giusto! Tra l'altro a notare che questa frase... Tipo... Ma sei sicuro di aver usato Lost? Assomiglia molto alla frase della... 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 Della frase dell'altro ieri! Che è tipo dopo 20 minuti di ricerca della macchina di Norotus Nel parcheggio di Gardaland Norotus si alza e dice... Oh ma ragazzi! Ma non è che siamo venuti in motorino? Questo è stato il momento! Io lì ho... Ho smesso di ridere più o meno a... A... A Genova! Più o meno! No! Due ore non la trovavamo! Vai sapere! Monster manual da te io! Adesso cominciò... Sono passati in hard mode comunque! Però non ho capito perché tale effetto di Taurus non mi si è... Si è attivato manco... Normalmente non era Taurus ma era Sagitter! Si è attivato una volta per sostanza! No! Era Taurus! Era Taurus! Ho avuto anche sulla wiki però non mi si è attivato nella boss rush! Si attiva più velocemente in base a qualcosa! Non ho capito bene se è al movimento... Al movimento o al danno! Potrebbe essere al movimento perché sono stato praticamente... Però poi mi sono mosso in effetti! Oh! Oh! Smartfly! Ah! Tua madre puttana! Benvenuto nel club! Benvenuto! Potrei fare... Potrei fare come quello youtuber che seguo che quando trovo una gente di merda qua fa... E si fa a suicidare! Tre ride! Ok! Mi ripete quello che è verità! Io non è questo youtuber famoso! Non lo conosco! Tears of Grace! E se non è... Perché essendo uno youtuber famoso di solito! Ma non è che sei famoso! Ma non è che sei famoso! Oh! Ma ha parato un colpo! Ma funziona davvero così! Allora... Si a me ha salvato una volta... Poi gli sono finito... Amnesia! Ma grazie! Oh! Purple Heart! Challenge Up! Ma si dai! Già che ci siamo! Prendiamolo no? Cazzo ce ne frena! Cazzo menne! Tough love! Ma oltre... Oltre a aumentare la chance di trovare campioni! Cosa fa? Niente! Ti fa trovare campioni così... Ti potrebbero lasciare qualcosa! In teoria! Ah no! Ti aumenta anche leggermente il tuo danno personale! Non era la champion belt quella! Ah! Hai ragione! Secondo me ti fa solo trovare più campioni! No ragazzi! Quando guarda... Ho salentato! Stanza! Boss! Monstro! Dentro ci sono quei... Ci sono due nemici di quelli che ti inseguono e quando muoiono... Il gesto della testa rimangono camminando e ti sparano! Il Malibum! Più il... No! 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 C'è la pace di quanto se faceva la faccia triste e lei gra del mondo leggera con gli occhi sbarancati... Ah... Ok! C beh... Due di quelli di entrambi da Rater continued! I Becci di Mods più doppio també gliel'h viola! Che bel광o! Io ho trovato... Ho trovato Gamekid! E sono narto! E il tuo madre puddana! E il Gamekid tutto sommato! Use n布 duuuue non è malvagissimo per le boss fight du quei altro! Di nuovo Hot Bombs In realtà forse se su The Lost Adesso sono in hard Si attiva la modalità quando ho culo nella vita Perché a me capita che intanto vado in culo Nella vita Potrei allora Potrebbe succedermi qualcosa di bello Oh The Hound ok no No è il Game Kid Non mi ha ammazzato i fan L'ho usato e non facevo danno ai fantasmini Sono morto ok perfetto grazie Technology 2 grazie porco Io la resetterei da capo Con tecnologia Zetto lo sai che l'835 sul canale 42 C'è Inazumi 11 Go tutto in italiano Me ne frega un cazzo Non è il momento giusto Ma no Povero Cosimo Non è il momento giusto Non è il momento giusto Io lo posso fare restemmiare se volete Non ci vuole Non è tranquillo lo caricherò su youtube Sono morto Se lo caricheremmo tutti su youtube A parte Edo che è l'unico Che ha fatto qualcosa Tra l'altro Ho trovato il coltello di mamma Ma tua madre Ma porco voi Ma ti venisse Un po' di cagottino Ma non tanno Senza esagerare Giusto un po' di cagotto Tra l'altro neanche dal patto L'ho trovato in una stanza degli oggetti Ecco appunto Ma sapete che non avevo mai sbloccato Ma io non avevo ancora sbloccato Non avevo ancora sbloccato la small rock Ma lo sapevate Ma come non è mai sbloccato la small rock Adesso ti ho tic per culo per la vita Dopo avermi rotto il cazzo con seller Per degli anni L'ho sbloccato adesso Come facevi a trovarla nella sede dranne scusa Ma infatti Ma perché nella sede No 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 Perché nella sede Si è sull'altro salvataggio Si esatto No no col mio sbloccato Io adesso ti raggiungo Uh my reflection Attenzione Mi si è baggato un ragnetto E mi ha preso sulla roccia Nel frattempo a me ogni tanto Isaac comincia a dare Quegli scattini divertenti Che mi hanno fatto appena morire Grazie Avevo Avevo gottè De mom's knife Mi si è baggato un ragno Ed è riuscito a entrare nella roccia E mi ha ucciso Ah si lo fanno ogni tanto i ragni No 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 Non quando sei in mezzo E c'è lo spiraglio C'è proprio entrato sopra Come se volasse Ma perché ha detto No sta merda Non può avere mom's knife Muori Non sei degno Mom's knife è gottè Quindi chissà che cazzo Porca puttana Ed o ti chiedo Non cid Ti chiedo Eh l'ho perso Lo chiede Sono morto subito Se ti arrivi a tritare Ma no no Quello del Gesù Cristo Eh ma non ce l'ho Ma figuriamoci Dimon baby Parcaira Ma Era una sincroniera No no assolutamente no Cosa te lo faccio pure Vai Dimon baby Pensati che Questo vago sento Questa funga vaghezza Ah mi sta piaccendo Dello stesso comunque Sì sì anche a me Anche tua madre Sì Quella grandissima Troia 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 Sbaglio No 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 Incorretto è corretto Cioè Quella che trovi in via In corso aurelio sappi Proprio Chat mi confermate tra l'altro Confermate che avete visto La mamma di The Lost in corso aurelio sappi Ieri sera Ieri sera Oh che miseria Io oserei dire get rectone The Lost Io oserei dire un'altra cosa Ma non la posso dire Scorpio 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 è un liquore all'anice se non sbaglio è un liquore francese all'anice se non sbaglio sì dobbiamo richiederlo perché sai che io non sono molto amante di quelle cose di ne ho bevucato parecchuno si sa che lui porco me maledetto me il cagobotto che ho augurato a Dedo un pochino anche a me io l'ho sentito proprio partire il porcone l'ho sentito arrivare ho detto qua non si ferma wow ho trovato a tolto addirittura un punto di vita fa mine addirittura nel ultima puntata ho usato a tolto da whoop una decina di volte mi è arrivato le palle mia madre avevo la batteria lo raddoppiavo lo usavo due volte mi toglieva tipo un decimo di danno per ogni boss dicevo wow ma bravo shup da whoop ma complimentò e tipo così tutto il tempo mi sono sempre chiesto perché sia stato così sia così inutile shup da whoop sì ma non è mai stato utile ora è liquida quanto sei utile anche tu grazie perché i boss non si avvelenano ah ecco per ogni anno non so se è un bene con beh sì beh perché no se doni un sito no dead onion se con me doni ah beh c'è tanto di peggio c'è tanto di peggio sì certo però le lacrime sono lente potevi trovare un eltap potevi trovare un eltap potevo morire potevo potevo morire perché famine ha deciso di rispondarmi alle spalle così eccomi non è non fa penetrare le lacrime sì però le lacrime hanno un range del cazzo e vanno pianissimo sì poi lo sim vai tu più veloce in dei momenti eh no no non in dei momenti vai più vai decisamente non ho mai capito la differenza tra la ball of bandages del beat boy niente nessuno 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 ti fa innamorare negli avversari la ball of bandages si però si esatto però dalla a livello 1 non stanno a livello 1 non stanno a livello 1 non stanno a livello 1 no da secondo sempre dal secondo se a me se a livello è vero dal secondo all'altro è vero è ragione se lo trovi però giocato ciao kreng benvenuto ben tornato sono morto un ciao ma non spero per dire per dire per mantenere sempre sulla dosi di schifo necessaria ma non credo ah ma trapassa anche gli oggetti delle donne si trapassa tutto è come se fosse un range piccino ha un range della micchia e la velocità delle lacrime è nulla signori l'oggetto della vita al fagiolo nero vuole dire che ho fatto un colpo si porta con le lost altro eh si che fa schifo in generale si esatto ma con le lost è proprio la merda quella con tante N quella un po' squacco era quella la merda stavo dicendo course of the blind che sfiga poi aggiunto sono le lost è vero è vero che sono le lost non lo cuore ah a costo di ubriacarmi continuo fino alla fine qua cioè grazie ho il band ma come sei umano ogni volta che mori bicchierino di pastisse no faccio qua io mi sono fatto sto facendo l'aperitivo sono le 18 e 20 era da fare potrei reclamare da mamma potrei riferire da quando è arrivata in casa sono chiuso qua dentro potrebbe un confegno se si vada a chiederti cacca come fa carta guest humanity riempie la stanza di cacca te usala oh beh il control back l'aveva usata oh è il tap grazie l'aveva usata per bugarci per allaggarci il blue baby il blue baby per incastrarlo completamente e ce l'avevi fatta in effetti si si funzionato tra l'altro avevo tipo un cuore di danno ho detto non ce la farò mai ho detto proviamo un po' a usare il card guest humanity dovrebbe funzionare ha funzionato perchè sono andato dal boss senza andare nella stanza dell'oggetto sono un po' speciale ma l'ho sentito dicevamo allora pochup da uop grazie grazie per rivelare ancora la tua inutilità è gentilissimo pandora's box quando serve lo uso comunque perchè intanto blank card wow firemind tua madre troia non ho carte però se le trovassi non effetti viene bene con carte particolarmente no sai cosa se trovi tipo la runa perthro è come se avessi di sei perthro pandora no ma leo non vedo un cazzo per con la criniera cazzo dopo il prima seconda stanza stanza enorme con mosche cose varie non c'ho voglia mi sono cacciato di nuovo vaffanculo muori ma cazzo ho trovato firemind che fortunello che sei a me firemind stando un po' attenti piace un po' il concetto di bobsbrain si 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 il problema è che non posso perdere danno ma la base è un po' questo sono morto porco te l'ho detto grazie a firemind suppongo si è certo è certo è certo è la differenza tra firemind e bobsbrain è che bobsbrain sai quando lo fa lo sai cosa sta per succedere ma non mi sono mai è sorpresa è sorpresa io non mi sono mai suicidato con firemind adesso perchè il nemico era tanto vicino a me è scopo semplice è facile ho fatto un po' di puntate nel quale ho smadonnato duro tra l'altro tipo in tre di fila tipo l'ho preso ho detto no non lo prendo vabbè dai lo prendo e poi sono morto per fermo che poi in se per se non è male come power up cioè no lo specchio rotto sarebbero le mirror steer però uh vai riflesso prendilo prendilo ti lascio là sappi che ti lascio là oggetto no col cazzo che lo prendo prendilo prendilo è forte è forte no lo so com'è una merda io chiedo conferma ma so che è uno schifo oh 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 Spoofender esce tra due mesi no no se va bene esce tra due sì come hai detto Alisso se va bene esce secondo me secondo noi non so se siete d'accordo con me esce l'anniversario dell'uscita di The Bandicoid lunedì settembre sono abbastanza sì l'unice settembre novembre 4 novembre mi sembrava ah l'unice novembre era skyrim scusate 10 novembre ma in realtà è il 4 mi sembra mi sembra 4 no è vero l'undici era skyrim l'undici 11 11 skyrim 11 11 11 skyrim mamma mia tra l'altro oggi sono andato a scuola al liceo a ritirare il diploma perché ci hai messo tre anni ad arrivare perché? e pensavo e ci ha messo tre anni ma no ma che te ne fai del diploma? è perché se no non posso laurearmi se non presento il diploma in università se dice guarda che mi sono laureato non mi sono diplomato dovrei andare a perdere l'unzione e in pratica dicevo boh se ci penso è iniziato che dovevo diplomarmi che giocavo a skyrim e ora devo laurearmi sto giocando a delle scuole online cioè come cambia la vita proprio e stavi giocando a skyrim fino a poco fa comunque comunque stavo giocando a skyrim stavo giocando a skyrim anche dopo c'è stato qualche esame che mi ha distrutto ho detto basta stai comincio a skyrim due mesi fa quindi non è cambiato un gran match ma noi fino a che ora pensiamo di andare avanti tipo ma per me posso starci fino a mezzanotte guarda al passis ce l'ho ma magari cambiamo gioco tra un pochino tra un pochino magari cambiamo gioco ma io no io ho piuttosto ordinò le pizze frega niente io sto quando mi schiollo io no io mangio poi fuori quando riesco per il compleanno quindi io fai un po' cioè ci metto anche il buco nella sedia cacco vivo qua come oh bob bang che bebeg che bello bob gangbang bob's gangbang 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 trovo to meet hp up oh ma la masco finfamino rosifero comunque profondo rec dokman ma distribui questo troppo to abitasi al passato a milan ciò scritto anche ci ha messo niente e' vero e' vero e' l'uomo della merda cosa quando vuole mcmillan e' l'uomo della merda si si e poi non ho mai capito come beh anche la grucia non ti dice non c'è tipo scritto it may arts una roba così e ti trapassa la terra si e' poi se pensi a cosa vuoi usare e' l'uomo della merda mcmillan ma infami para un tipo di lacrima no infami para ogni tanto no no e' percentuale ah se gli piace para esatto diciamo che sei quelle teniti shield tendenzialmente pari teniti shield invece dovrebbe parare quelle che punta quelle che vede bene ho due forzieri dorati e la parte del tesoro e non ho chiavi per aprire io sto per prendere sperimental treatment io sto per prendere niente tu sei per prendere qualcuno da sopra e fare qualcosa di strano ammetto ho una chiave fino a niente grazie di sì in fondo ti vuole bene anche cazzo sei morto? no poco poco no puoi essere per un cazzo tipo oggetto di merda ci sono due cazzo con the lost lì c'è una questione di rassegnazione oggetto di merda proprio tu guarda e finalmente the lost avrà le lacrime spettrali beh si mi sono sempre chiesto perché non avessi le lacrime spettrali anche io lo rende un po' più facile no più che altro è un fantasma quindi ci starebbe anche di lore esatto sì c'è da dire che però rende il gioco più facile fondamentalmente in alcuni casi quasi facile da battere perché dipende dai nemici che ti trovi in determinate stanze lazarus rag tua madre è una grande troia di nuovo lazarus rag ma c'è questa di nuovo ed era la mia unica chiave che potevo usare su mille o potessi sapere queste fortieri grazie tua madre troia andiamo avanti il corso del labyrinth cominciò a petemmiare ok double shot double shot potrebbe già essere un buon inizio ma se io attivo il corso del labyrinth sono capace di farmi cambiare stanze e spaccarmi su delle spine sempre ma se io attivo la devil la devil card conta come il libro di Belial cioè nel senso anche per il fatto di una satana no ma per il pato no devil uccide i nemici piccoli no 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 scusa no vabbè l'ha spawnato l'ha spawnato ottimo gazzano venite gazzano venite gazzano venite gazzano venite gazzano venite gazzano venite adesso muore 9 volte si ho degli ocetti di merda cioè ho la merda secca con progetti però vabbè intanto non posso tutto a posto non c'è problema non vi preoccupate non c'è problema alcuno proprio mi sembra non ci scandalizza minimamente qua unicorn stamp grazie coda di gappi 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 pornography si coda di gappi coda di gappi coda di gappi sì sì ma tanto è ma io credo che The Lost sia tutto bottadano in senso una dita l'altra io devo rivedermi un attimo la prima run che ha fatto Northern Lion con The Lost io ho preso patto con Satana che devo ben capire come ha fatto Giro alla Mo25 ci sta seguendo benvenuto ti stimo dal punto di vista professionale guarda io ho fatto patto con Satana 9 lives sono andato nella stanza di sacrificio perché tanto fotte sega trovo la stanza di Garpy mi tre tre porto fuori apro un portier donato ma dai lì culo ma culo rotto 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 proprio adesso siamo tutti con te però ma non è triste nel frattempo c'è che si è fatto il culo per finire The Lost però lo potenziano ho le lacrime che sono la merda però capitemi sei il contrario della mia run di prima sei forte sull'altro spesso di The Lost quante mosche che stanno arrivando sei forte perché per la vita sei il mio contrario rispetto a te oh sono morto vabbè quanti ne hai ancora? 8 facciamo il countdown si magari me lo segno sul messaggino perché non vorrei che sono fiducioso che ne ho ancora un po' è vero che non le vedi? eh no 8 eh perché c'è alcune stanze con le bronze che anche sono due che si può fare tutte le volte con le cose che si può fare da un tavolo la cosa che si può fare mi servirebbe poco più sentimento per il danno per il relax che stavo ordinando una buffalina al tavolo 5 da me la rischio con Big Beauty Blue Fly si vabbè se sai l'inizio perché no ma Big Beauty Blue Fly invece vedi Big Beauty Blue Fly invece a me piace ma manca a me mia mia amica mia molto amica ebbè Big Beauty Blue Fly se mi uccide la emigre è un poco poco il cazzo poco poco quello si poco poco wow crystal ball grazie sto trovando mille forzieri no amica ti fai vedere la mappa dai vedi la mappa dai sul soffitto giro l'uomo 25 benvenuto sul soffitto grazie per seguirci su Twitch hot bombs dai i ragni che saltano anche se hai le lacrime spettrali sei nella cacca lo stesso non è vero perché i ragni che saltano se tu stai su una roccia non ti vengono una compass soprattutto tu stai nell'angolino ma ciao se sei in mezzo si devi stare negli angolini se no se stai in mezzo una roccia in mezzo invece si ti rompono il cazzo posso già vedere da qua che il boss è un double trouble e la cosa non mi piace aia doppio de blot no minchia sono ancora questa stanza non mi piace big beautiful fly ci ha spaziato per ora si rubber cement così non è male e si e incomincia a essere quella roba volante che non riesco a capire se è mia o è degli altri un altro boss monstro ok monstro è gestibilissimo finchè non mi esponso arrivano le nove morti dell'infamia arrivano sono morto forte una volta sola adesso sto andando comunque zetto per vedere le tue vite lo capisci dall'orbitale quando scompare non hai più vite le altre però io sai che io non lo sapevo ah no io sì speed up mi succhio la minchia poi vediamo satana dead baby rotten baby quello che spaga non è male daia mi piace non è male però non è neanche il oggetto click dead vaffanculo che cazzo ah no puttana ragazzi vi voglio ricordare che anche io ero dio prima e son morto si può sempre morire con l'oste è il paradigma dell'oste doppio gemini ciao doppio gemini vabbè dai fattibile telepatica da miscrazio non è di niente dai muori muori stronzo muori fatto con satana cosa c'è cosa c'è cosa c'è gott del smorro crampus ciao crampus io gott del smorro che telepatica di fordami potrebbe piacere la lampo potrebbe stare prendendo una buona piega infami tutte ho trovato infami hai preso infami pure ho trovato infami non te voglio da degli infami poco poco infami ho trovato ho trovato kpz dentro una stanza del sacrificio peccato che ora ne debba uscire ma ho deciso che succedermi su una mosca così c'è mercato c'è mercato c'è mercato c'è mercato c'è broken watch il maialino la bussola e la mappa e la bussola e la mappa nella stessa cosa e adesso dono troppe cose perché c'è anche un beggar capito che io direi che c'è un uomo c'è un uomo incazzato un po' però saluto il cazzo c'è mercato allora poi io però mica mi servirebbero delle piante tipo sto cento non sono la tua campagna mi servire cioè avendo la gap avendo la gap stelle queste 7800 cazzo dorate non è una fiabe che è una fiabe sono quelle che ti stanno propiziando la gamba no 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 stanno dicendo noi vogliamo un altro planino noi vogliamo un altro che da dio cioè chiedono un altro planino stanno dicendo vogliamo un altro planino per volare in paradisi insieme questa è la flatworm perdonatemi ah figo il converter mamma morite bamfriand si va bene ma il crowface cioè è sotto è sotto qualche roccia a caso o c'è uno più bene io non ho ancora capito se ce n'è uno per piano per forza obbligatoriamente oppure no non ho ben capito non l'ho ben capito beh no qualcuno nel commento mi diceva no non credo perché mi diceva di no se con ho fatto run con Ipeka che non lo trovavo ma con Astompian che pensavo ad esempio che non di solito le rompo tutte ma non beh no la caffè è rossi di domenica e mi c'era un po' ho trovato un onestissimo buco oh ciao grid utilissimo addio grid si 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 onesto 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 boss boss mega fette ha troppa vita bastardo comunque ho ancora 8 vite dai ok ok oh che noia queste stanze enorme con le mosche che barba che noia che barba che noia mega fatti è andato dammi satana dammi satana non mi hai dato satana bastardo io con la gota se non mi da satana mi incazzo non può non può non darti satana ma il porco che coglione ho preso un danno da coglioni e sono morto come ho subito immediatamente io ho tre chiavi e faccio un po' di casse dorate come mi dai no io non ho chiavi cazzo sto guardando la chat stavolta è colpa mia willow forte imperatrice eh imperatrice eh io senza chiavi e non vado nelle stanze merda pillola bianca oh si lockdown come si chiama il gemini più potente già la lingua di juda no no che stupido sono la lingua di juda è la merda è inutile cioè figa ma adesso si con dell'ostro non serve infatti ho detto figa ma adesso non ti serve ma chi sei boss chi sei al capo 2 ciao 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 io sono un attimo deconcentrato un secondo deconcentrato sono morto 15 volte negli ultimi nell'ultimo minuto e metto 16 satanic bible oh hp asp firemind firemind io nel patto con satana c'erano tre casse rosse tre troll bomb mi hanno chiuso in mezzo e sono morto è un cattico un pochino adesso faccio la tecnica ace che entro in ogni stan le faccio finché non trovo line cut la chiamerò tecnica cheap bene o uguale si ok merda 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 l'importante è vincere non con ecco l'unico vai no ma perché se gli esalti io e il mio mantra l'importante è vincere come non importa ma subito io la penso proprio così non c'è un'altra onore non c'è vero la parola oh non c'è leccare eh mosche fate tutto per me da brave bravo bella utile de robe grazie shot speed damage up sono so messo male però il fatto è che non posso prendere danni cazzo eh sì già è il problema principale quello di campus però è rallentato ho rischiato la vita ma non tanto di più il nuovo telepatista non forte ma molto fortissimo l'ho rischiato campus head perché io quando rischio la vita rischio forte rischio forte io non muoio io rischio la vita forte sto muore da giocare mi sta lentamente spegnendo giocare con le rosse ma dimmi la blancard che cazzo mi serve muore grazie mille guarda per la 122 volta oh il mio death counter è 69 la mia win streak è meno 69 non posso più giocare ad isa quindi necropolis xl e sono dall'altra parte del mondo rispetto al boss ho trovato virgo io intanto così ho finito ho finito i power up belli voglio morire voglio morire duro non sono abbastanza potente per finire il gioco no fai te conto stavo battendo i jumper a un certo punto è uscito fuori una pillola è uscito fuori una pillola ho detto vabbè che sarà mai paralisis mi ha colpito no non ci credo ho sempre pensato che questo prima o poi sarei morto in questa maniera con qualcosa 7 vite però non credivo di che ho paralisis dico vabbè non rappresenta ho 7 vite adesso 6 vite io ho trovato demalli oh demalli non è male o sbaglio io sta stanza con le spine non riesco ad andare avanti sono morto già due volte la stanza con le spine si è quella dovemmo è beh quello che è successo a me prima no no ma le spine sono fitte chiudi gli occhi chiudi gli occhi e vai dritto in mezzo l'ho fatto sono morto io non ce l'ho fatta io sono morto sono troppo lento non ci passa non ha funzionato sono morto già tre volte no il balligan è sul danno non era sulla quando il velocità di sparo il balligan è sul danno spavano le mosche in base a quante volte colpisci colpisci è quello dico una cosa però il danno è in base al tuo danno ah ok si vabbè però comunque devono spawnarne se non ne spawnano si se non colpisci non spawnano no no a parte il fatto che il balligan è sul danno subito sbaglio? si infestation non è come gappi no 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 aspetta no infestation il danno subito balligan mi spawnano infestation allora a me le mosche stanno spawnando stanno spawnando mi stanno spawnando e lo vedo il fagiolo il cazzo di fagiolo che cazzo ho preso adesso anch'io fagiolo nero ho preso per dire la gioia e tu sei riuscito a superare le spine? no sei morto? sono morto già tre volte ho ancora cinque vite stai pensandoci quindi adesso? non so cosa fare sto girando tipo non so giocando uno speed up perché la mia velocità non riesce a fare tipo un non riesce a fare un trick tipo una la vai da sopra poi scatti in mezzo è stato il mio secondo tentativo però è che se passo da sopra mi uccide quella quella che diciamo che dovrebbe uccidermi all'inizio perché invece di andare giù va a destra allora mi sa che abbiamo mi sa che c'era tra l'altro identica alla mia di prima stai se ho capito da quello che hai detto finora perché era la mossa che avevo pesata anch'io non va e io ce l'ho fatta a culo perché avevo quel minimo di velocità ma però ce l'ho già perso vale la pena prenderlo cosa? Abele beh sì ma perché lasciarlo lì nel senso non ti aiuta troppo ma potrebbe salvarti il culo una volta è estremamente inutile sì non è inutile Abele Abele non è scusa alt no è il familiar è il mirror family infatti non è il mirror family cosa serve il mirror family ma sì qualcosa serve c'è di peggio c'è sì tipo cioè è un famiglio non lo lasci indietro mettiamola così cioè no 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 sono morto un po' di danno ti fa ogni tanto mi sto prendendo non lo lasci lì ecco nel senso lo rirolli se hai il d6 però non lo lasci lì se non hai il d6 è sempre danno non vedo quale lo Yamart se mi dai lo Yamart mi ammazzo ce l'hai fatta ce l'ho fatta c'è un culo puttane ho perso tre vite hai cinque ho perso tre vite ma va bene ma dove sei tra l'altro sono necropoli suono quindi non riesco neanche a fare la boss tra l'altro pensavo fossi tipo Wound no 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 ma perché non ho non sono fortissimo sono solo le mosche che fanno danno ah e hai vita oh god no 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 vita ho vite ho vita così si con il senso ho vite ma com'è Wini to go di ho visto ho visto l'anima di prima avessi trovato il gatto 9 code l'avrei vita ho fatto constata con Wini to go di per bene ma cosa me ne faccio di Wini to go di beh Wini to go di ti skipi ti puoi utilizzo eh no eh no eh ma non batti tutto fino alla mamma ma non ottieni l'accidamento se skipi fino alla mamma eh no a parte che che ormai non mi serve eh ma no mi serve la cioè il mio danno è basato anche sulle mosche è basato anche su Belaya no no su Belaya sulla Head of Gap ah mi aiuta un botto dicano sono morto ah è morto a Necropolis XL no per un po' no sono morto di nuovo ma è possibile che io sia l'unico che ha come oggetto più figo che ho trovato finora è stato Blood of the Martyr nel primo piano per dire Blood of the Martyr non è sul danno scusa e danno e basta e il danno che prendi no no Blood of the Martyr è un aumento di danno e basta che ho trovato ah si giusto la corona di spine la corona di spine si ah ok e questo è l'oggetto più figo che ho trovato finora per dire nell'ultime 30 run io penso che sopra la mia fede giocando alle host kamikaze ma basta io lo metto basta io trovo il cosa fa mi ha più da però una lacrima però una ogni due sì quindi io ho trovato un piano con power up fighi e adesso basta io sono il secondo bicchiere di pastizzo beh io scusate io è vero che ho trovato brimstone però dopo di quello l'ho avuto neanche un patto e io io finora patti non ho trovato un cazzo allora come fare sta cagata ah beh se però mi prende alle spalle il cazzo di ragno di merda vabbè vaffanculata è tua madre tua sorella pure la tua nonna sperando la nonna no l'unica che si salverà una dinolore te le porto grazie vabbè con teleport posso entrare nelle stanza del sacrificio calma calma sì quello è vero aspetta io me la te eh vabbè però non mi suicido proviamo punching bag potrebbe essere interessante qual è già quello che gli amici attaccano a lui a volte sì a volte ah ero da mamma oh cazzo e io la run che trovo teleport ah la run che avevo brimstone la mamma era rossa si è bloccato tutto eh tra l'altro era buona quindi l'infamio mi ha parato un colpo stai pregando tutti i santi in questo momento sì sì ma quelli ma quelli dei greci a siri di tutti oh mamma è morta ho lasciato indietro due o tre bei tarotti però quante viti hai? quattro? quattro scusa che cazzo ha fatto ad avere una streak da dieci vittorie con The Lost scusa chi è Argon? spiegami un po' due secondi Argon chi è che l'ha avuta? vabbè è Argon si in effetti è Argon se dovuto entrare in Matrix ha visto la matrice me l'ha avuta me l'ha avuta sì il terzo era un patto con Satana quindi Marchio Marchio e Belaya quindi ciao ciao testa di Gappi ciao 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 testa di Gappi sei ore in combattimento contro Gagli se vaffanculo mi uccide quando uno di vita boss of Steel io sono morto senza poterci fare contro nulla Maxon è entrata e morto perché c'era il ragnetto che mi è scusato c'era proprio lì era messo per mi chiedo mi sa che è buggata quella stanza perché entra e ti fa danno quindi pensa all'amarezza nel mio corpo nel mio cuore sì perdere senza neanche per colpa tua perché mi hai fatto male la stanza ma fancore ciao albistar091 salutiamo però non è che possiamo adesso possiamo salutare tutti i gatti di avvicinato nel senso ciao alb non è che posso qui a casa di circondario hot bombs wow l'oggetto che mi farà vincere per la mia famiglia mi fate venire voglia di rigiocare con The Lost prima di Afterbird se ti piace farti del male se ti piace perderti il pisello e tagliato la fettina come può venirti voglia se noi stiamo morendo dentro per sentenza superiore probabilmente lo sto tagliando alla julienne io in questo momento lo sto tagliando alla julienne oh leh fine 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 no il duko flys ci saluto vaffanculo 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 ti erano a fare anche mazzine super bandage super bandage super bandage vuoi andare a vaffanculo z adesso no 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 ma è stato proprio una cosa d'impulso non era un notte smodrock intanto blue cap cos'è luca blue cap beh utile anch'io blue cap ooo fai flick e flock z oh 1 2 3 flick 1 1 2 3 sembravo un bel col sound check allora 1 2 3 1 2 allora io dico 1 2 3 allora con calma ti dico 1 2 3 al 3 poi dico 1 e tu dici 1 ok ok 1 2 3 1 2 però che cazzo hai detto al mio 1 dici 1 ho detto 1 allora 1 2 3 1 2 1 2 3 arriva in ritardo l'audio probabilmente perchè io lo dico al tuo 1 e tu non mi senti nooo che telestezza ho messo ho messo bad as unicorn intanto così bad as unicorns fa come il game kid? si solo che non ti fa recuperare vita mi sembra forse il game kid il game kid recuperi vita da quando recuperi vita con il game kid? mi sa non ti fa recuperare la vita il game kid anche si 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 oh grazie beggar mi ha dato un fagione grazie ben gentile ben gentile senti se io ti non lamentate ben gentile ben gentile come l'hai detto no rat e ratman che lo dice ben gentile eh la blue cap è vero come è? eh blue cap più peces più pesci in poche parole blue cap più pesci non è malvagio cosa fa già il blue cap? perdonatemi blue cap HP up size size la dimensione delle cose aumenta e la rallenta un attimino però peces aumenta la frequenza di sparo e e e e e knockback quindi non è male ah si è un figo qui in combo non è malvagia 3 bite no dio un po' un po' un po' un po' un po' a c'è è e there is the magic number ah there is only one magic number inizia col 6 e finia col 9 esatto odd mushroom giant no 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 ok sei morti subito bene perché doppio gherdy junior stavo già per 6 nel womp 1 womp 2 ma con quelle lacrime che mi sparano abbastanza frequentemente non sono malvagie ha senso che io prendo technology in questo momento no no ma l'1 o 2 chat mi date una mano l'1 o 2 no technology 1 eh technology 1 eh ditemi un attimo con questa frequenza di sparo guardate il mio no ma l'1 si quando è che l'1 è negativo scusa non ci ho mai capito un cazzo nella vita perchè mi dovrebbe dimezzare le lacrime in se per se no ok 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 e datemi un attimo un problema in chat guardate un attimo la mia frequenza di sparo e capite bene fate un calcolo matematico veloce per capire se ha senso che prenda allora sono morto contro 8 leaves ma mentre sono morto le mie mosche l'hanno ucciso e vale? si vale fantastico perchè è morto prima di me quindi adesso ho due vite però hai due vite? si però ho sbloccato 0 baby onesto e dovrebbe essere sbloccato anche il fatto di aver ucciso con the lost 8 leaves eh si si è 0 baby in hard mode è solo è 0 baby 0 baby non è perchè non hai preso danni nel womb no 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 0 baby è il bambino che si sblocca di veloce mamas boy se non prendi danni nel womb cosa sblocchi? mamas boy penso di si si dovrebbe avere senso ragazzi ento nip nova francesuit girolamo 25 teos dert ecco dove vedi andate sulla chat di norotus perchè io non vi stavo leggendo ero convinto foste tutti nell'altra chat andate nell'altra chat andate nell'altra chat andate nell'altra chat e guardatemi via ehh ehm ehh 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 non mi ricordavo come si chiamava la mia il mio canale ok il mio canale non mi ricordavo bene il nome del mio canale allora allora quindi se mi dite di si lo prendo ah perché sparo molto frequente ma non sparo più le mie lacrime ah ok 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 di nuovo Big Beauty di nuovo Big Beauty fly pian piano mi sto imbrillando no mi sto imbrillando adesso mi metto a guardare la cosa di me che perché ho sentito un no devo capire cosa è successo stavo guardando bello tranquillo la chat è brutto brutta cosa cosa andò del host è proprio no che brutta cosa dal fuoco si maledizione soffro per te non hai idea di quanto sto soffrendo io in questo momento il mio cuore è dilaniato anche la mia fede è un po' dilaniata anche la mia fede ammesso che ce ne fosse mai stata una mi sta un attimo risentendo per non parlare della mia micchia mostro due mostro due mostro due mori veloce per favore mostro due mostro due mostro due mostro due starto mamma è pitana mostro due è morto abbele a proposito ciao abbele a proposito di abbele oh oh finalmente un primo oggetto umano death touch umano umano per the lost sono contro isaac ragazzi per qualsiasi altro oggetto sono contro isaac per qualsiasi altro personaggio potrebbe essere sei contro isaac adesso si mettete un attimo le mani al cielo tutti per favore no col cazzo perché muoio contro mostro death touch per me puoi morire me ne frego un cazzo scusate the lost vai perdone dai ma cos'è successo? sono contro isaac mmm quante vite? due due armata di mosche andate però ok è già l'ultima fase è già l'ultima fase ce la posso fare dai si se non faccio cagate grosse ce la faccio mica che mitragliatrici di mosche che ho mi prendo un braccio cazzo welcome to the da fishport sii 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 ma si hai avuto la rank on più culo di questa story sii è morto no è morto è morto vai isaacarto sii sii tu zenerotus non puoi io sono morto per non mia facoltà è proprio shame io sono in rabbia con the lost che ha arrensione verso la vita ecco no guarda no guarda no guarda no no last guarda no proprio no no guarda stiamo qua oggetti della cesta sono book of sin e book of secret per ora non ho altre chiacchi eh ma rischi la stanza della merda nella cesta eh infatti infatti ho tanta paura ma tanto book of secret beh perché se tenei vecchi una come quella lì in live il book of secret mi ha si me la ricordo quella con 200 teratoma no cos'era? quella con mille monstri e mille Larry che mi chiedono ma giro la domanda anche a voi l'oggetto preferito bella e no tua mamma questo momento sono un attimo sono un attimo impegnato in questo momento no uno dei miei oggetti preferiti allora si ah io ho sempre amato spirit of the night tantissimo si bello a me piace tanto spirit of the night che vedo rap eh si no 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 la poop grazie esatto io non saprei determinare un oggetto preferito cioè ci sono una serie di oggetti che principalmente sono tipo quelli di gappi che intanto io sto giocando col joypad me ne sono accorto adesso sto andando bene col joypad eee a me si sente la decenza finalmente ma a me oggetti come la corona di spiriti tipo i tuod la stigmata le cosine di i i cosi gli stuzzicadenti a me tutti quegli oggettini li piacciono un botto si aumentano il danno sono fighi si 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 io no stuzzicadenti aumenta la cadenza ah vero ce l'ho adesso spirit of the night anche se adesso è ma esce pochissimo adesso ti chiedo scusa muto un attimo che mi stai chiamando dal Giappone tranquillo si salutameli tutti internazionale proprio no lazarus bandage non le prendo neanche guarda le tienile lì preferisco morire che finire con lazarus stanza con due teratoma e due fischi finchia è facilissima si ma no tu dai è vero che non hai un danno a la laser però cazzo giusto io mi sto trinciando in un angolino felice dove le mie mosche mi proteggono e sto sparando da qui aspetto che arrivino io non vado a cercarli perchè devo fare questa stanza no cazzo rischi che ti spawni il ragnettino il stronzo dietro il culo per quello sto sono in un angolo felice ho causato le scissors fai cosa? no non è male le hai sbloccate sei morto 100 volte Mick finchia sono morto 50 volte soltanto oggi soltanto questa cosa quanto sono adesso? come 56 book of revelation sono quindi ero morto finora su 79 puntate di the binding of isaq ero morto quindi 20 20 volte tipo 20 22 volte 23 volte ragazzi ho trovato la carta di the joker ho detto vai figata ha fatto con satana lord of the pit lord lord of the pit buono buono ottimo sono morto cazzo sei morto proprio morto 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 è l'ultima vita no perchè c'ho ancora altri ne ho ancora ah perchè ne ho ancora una e poi è l'ultima si e beh si ok va bene oh shield e tears sto perdendo la speranza io a me ne è andata bene una sì anche a me questa devo riuscire a farla fruttare per sempre perchè io nel mio salvataggio non ho mai passato mamma quindi è una partita è una partita di youtube? si questa è quella del canale di youtube esattamente io non fare la serie sua esaq mi fa ridere molto più scianti no non mi puoi mettere le spine davanti al boss sei morto? no no sono velocissimo quindi dovrei riuscire a superarle ma sei la merda eh metrolenti sono passato veloce contro blue baby veloce contro blue baby ragazzi vogliatemi bene e io ci vado hai go fuori sei dentro? si sono dentro si sono dentro ma vince hai il brutto eccomi qua e a le omi in tears che sono un rischio però non ho le omi in tears ah blue baby si lui si 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 uuuu negozio allora pillole positive converter no te lo puoi tenere l'ho preso perchè vabbè broken watch hive mind e blank card mi porto la blank card o il converter? la blank card perchè anche solo perchè lo chiedo però prima di andare al piano di sotto vado a prendermi in realtà l'oggetto della stanza dell'oggetto del primo piano perchè non l'ho ancora trovato si hai vinto si maledizia noi siamo qui a piangere il gatto ha 9 vite è la soluzione definitiva everybody come up se lo trovi ho vinto se trovi il gatto ha 9 vite hai vinto ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto oh dry baby ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto ciao cane ciao cane ho vinto ciao ciao cane ciao cane no come il curso of the mates no ciao cane ciao broken watch armor bravo ho detto sono contento per te dicono io non lo so mi sto deprimendo però questa cosa fa amare anche i cari io prima ho fatto la boss perchè parli vai 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 edo perchè prima l'ho fatto la boss ma non me la vede eh non l'hai mica vinta sei uscito ma non è vero ero morto sulla cacca giusto giusto io sono secondo bicchiere di pastis spero che entri e faccio la drunken mode prima o poi perchè sei storto? no ancora no però dio conto di entrare tipo nella drunken mode di Jackie Chan tipo che cazzo fa di 4 rirolla tutto ciò che indosso che indosso come oggetti? anche le mutande no veramente mi rirolla tutti i miei oggetti? usiamolo il cane che mi ha 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 l'ha l'ha io sto adesso ti devi preoccupare